Queste sono fra le prime immagini di Caserta alla guida del Cosenza. Queste invece, relativa alla conferenza stampa di presentazione di Cosenza-Cittadella, fra le ultime alla vigilia della sua ultima gara. Il tecnico di merito Portosalvo non è più l'allenatore della squadra Rosso-Blu. Gli ultimi due risultati sono stati fatali. La sconfitta nel derby contro il Catanzaro, la seconda in due derby quest'anno e del pareggio a Redi Bianche contro un Cittadella, reduce da otto sconfitte consecutive, sono stata la goccia che hanno fatto traboccare un vaso che già traballava da tempo e che era sembrato in procinto di cascarne la pausa invernale. Ogni decisione all'epoca venne rimandata e la sola vittoria nelle ultime sette gare è stata considerata troppo poco dalla dirigenza Rosso-Blu e dal presidente Uarascio. Caserta lascia dopo aver portato a casa otto vittorie, dieci pareggi ed undici sconfitte in 29 gare. Attualmente i Rosso-Blu sono a quota 34 a tre lunghezze alla zona play-off ed a quattro dai play-out che potrebbero diventare tre qualora stasera Lascoli dovesse vincere contro la Sampdoria. Ascoli che è stato la prima avversaria in campionato quest'anno per Caserta ma gli incroci fra il Cosenza e i marchigiani potrebbero non finire qui perché allora sulla panchina dei bianconeri c'era quel William Viali che aveva guidato la squadra calabrese all'incredibile salvezza di Brescia. Viali sarebbe ora in pole position per sostituire Caserta. Alle sue spalle il protagonista della precedente salvezza del Cosenza, ovvero il Pierpaolo Bisoli. Ancora qualche ora e ne sapremo di più immersi fra il passato ed il presente fra i play-off e i play-out.